Allora eccoci qui cari gattoni, siamo pronti per un'altra bellissima puntata che andrà in onda domani sera alle 21.30 in diretta da Iannacci Radio Web e La Voce del Gatto. Allora chi ci sarà con noi? Un personaggio spettacolare, il grandissimo, incommensurabile Paolo Tomelleri, cioè il clarinettista per l'eccezione che abbiamo in Italia, insomma quello che ha suonato praticamente col mondo, ecco il suo swing, il suo modo di essere, la sua personalità, domani sera sarà qui nei nostri studi e cosa diremo? Diremo e ripercorremo tutta la storia del jazz, per cui cari appassionati gattoloni miagolanti, io sono qua, voi siete lì, accendete il computer e sicuramente vi potete collegare con noi, magari anche al telefono o mandarci dei whatsapp, il numero lo trovate sulle vari post che mettiamo nella Voce del Gatto o addirittura in Acetiziano, insomma trovate un po' tutto, noi vi aspettiamo con grande gioia, ciao a tutti! Grazie 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 a tutti.